Continua a offrire grandi palloni ai compagni, Zapata, avanza col pallone tra i piedi, close, Zapata, portiere che salva il risultato. Hanno rischiato davvero un grosso qui, chance da calcio all'angolo per scherzare l'equilibrio. Crossa nel mezzo, 0-0 che sembrava addirittura reggere fino al novantesimo, alla fine però i loro sforzi sono stati ripagati, mi sembra giusto, vero Stefano? Assolutamente, è vero che nel calcio non sempre chi gioca meglio poi vince, ma hanno dimostrato di meritarsi questo vantaggio per quanto si è visto oggi. Sì, ottengono il vantaggio e si chiude qui anche... Grazie a tutti!